Arriva accesa la casetta dell'acqua, l'erogatore di risorsa idrica filtrata e trattata sul posto per renderla così di ottima qualità. Recandosi al distributore si potranno riempire le proprie bottiglie portate da casa, rispettando così anche l'ambiente e riducendo notevolmente il consumo di plastica. È una cosa che sicuramente aspettava la cittadinanza, noi era già da un po' di tempo che volevamo attivare questo tipo di servizio. Poi ci saranno altre due nuove attivazioni a Badicorti e a Marciano per dare proprio una risposta sia di salute, come stavi dicendo, sia di educazione, anche perché noi stiamo partendo con la raccolta differenziata, quindi sarà anche un metodo per ridurre rifiuti, soprattutto di plastiche, con le bottiglie. Quindi è un insieme, un percorso che stiamo portando avanti per poter migliorare anche il nostro ambiente. Questo è il primo impianto che verrà installato in questo comune e negli altri, che ha all'interno, anziché il solito impianto di depurazione, un doppio impianto. Microfiltrazione all'inizio, quindi eliminazione di cloro e sostanze volatili, e all'interno un impianto professionale ad osmosi inversa. Riduzione del residuo fisso, quindi dei minerali che sono all'interno dell'acqua, da circa 900, che è la normalità di questi pozzi, fino a 200-250, che è l'acqua che arriva praticamente dalla diga di Montedoglia. Quali sono i controlli richiesti per questo tipo di attività? I controlli richiesti sono molti, l'ASL ci costringe giustamente a fare dei controlli settimanali e mensili sulla qualità degli impianti, il controllo di quello che sono gli erogatori, la pulizia, i filtri e tutto il resto, e in più una volta ogni tre mesi noi siamo tenuti per legge a fare delle analisi chimiche e batteriologiche che dobbiamo affiggere in bacheca. In più, per controllo ulteriore l'ASL, senza preavviso, due o tre volte all'anno, arriva, preleva, controlla, analizza e poi ci comunica il loro risultato.